La Concia per l'Italia, ma per il Vicentino, per la concentrazione che ha delle più grandi aziende multinazionali italiane, rappresenta veramente uno dei settori strategici per l'economia nazionale. Abbiamo bisogno di fare chiarezza su alcune cose. Accanto alla forte attesa nello sviluppo di che cosa sarà l'economia anche in questa transizione verde, che vede un settore, quello della Concia, molto attenzionato ai temi ambientali, c'è tutta la partita della contrattazione. Per prevenire le criticità che potrebbero tradursi in difficoltà per le imprese e per le relazioni nel territorio, la Regione Veneto ha un metodo di lavoro incardinato sull'unità di crisi, che punta sulla valutazione dei rischi. L'importanza del settore della Concia per l'economia italiana, concentrato nel distretto del Vicentino, è di altissimo valore per la sua capacità di essere internazionale, ma anche di particolare complessità per il fattore ambientale e sociale. Per questo si è voluto fare il punto della situazione nei giorni scorsi in un tavolo nazionale, voluto dal sindacato, alla luce di un contratto nazionale non siglato dalle parti maggiormente rappresentative. Una anomalia nel quadro della contrattazione collettiva italiana, che preoccupa il quadro politico ed economico, in particolare in questo momento in cui, come annunciato dal Mise al Ministero dello Sviluppo Economico, sarebbero in arrivo 10 milioni di euro a fondo perduto, destinati alle filiere della Concia e ai relativi distretti produttivi. La contrattazione è un elemento delicato per il nostro territorio e contratti che non hanno la presenza delle maggiori aziende, ma soprattutto delle parti dei lavoratori sindacali maggiormente rappresentativa, può diventare un problema. Abbiamo chiesto quindi una interpretazione anche al CNEL, coinvolgeremo il professor Treu per fare in modo che ci sia chiarezza su questi tanti e alle volte troppi contratti, sono 935 quelli che sono iscritti al CNEL, di fatto oltre 350 sono sottoscritti da sigle che vengono considerate dal CNEL stesso, scatole vuote. Noi abbiamo bisogno di chiarezza e di responsabilità. Grazie a tutti.